Emuscei, al di là della classifica le partite da ex hanno tutte un sapore particolare, è così? Sì, è una partita un po' particolare per me, però alla fine è una partita come le altre, perché alla fine sono tre punti come le altre. La partita è una squadra dove sono stato bene, che ho piacere riaffrontare, però come ho detto per me vale come un'altra partita. In teoria dovreste andare a riprendere i due punti persi in casa col Vicenza sabato scorso. In casa della prima in classifica mi sembra che sia un'impresa difficile. Ma abbiamo dimostrato quest'anno di potercela giocare con tutte, quindi non stiamo a vedere la classifica se sono primi. Secondo me ce la possiamo giocare con tutti veramente, quindi andiamo là per fare la nostra partita e cercare di vincerla. Castori ha detto che devono dimenticare il 5-0 dell'andata, ma sono più loro a doverlo dimenticare o voi? Ma noi ce lo ricordiamo perché penso sia stata la partita più brutta che abbiamo fatto. Anche quando andremo in campo dovremo pensare anche alla partita dell'andata e cercare di vincere. Questa abbinata con Brugman a centrocampo funziona? Ma abbiamo una squadra con tanti giocatori dove abbiamo dimostrato che chiunque gioca può far bene e abbiamo una rosa talmente ampia che possono giocare in tanti. A Carpi avete l'opportunità di dimostrare che il cambio di passo di questa squadra c'è stato, è vero? È così? Sì, veniamo da un buon periodo, però ripeto, dobbiamo continuare perché in questo campionato serve la continuità. Ed è quella che dobbiamo cercare, di dare risultati su risultati perché poi alla fine si vede che è un campionato con pochi punti di differenza e anche i punti fanno la differenza alla fine. Finiamo da dove abbiamo iniziato, cioè dal ritorno a Carpi lo fai con la fascia di capitano. Questo è un di più, no? Un valore aggiunto. Sì, no, quello sinceramente neanche ci pensavo, non è la fascia di capitano. Come ti ho detto, ho piacere a ritornare lì perché ho lasciato tanti amici, però è una partita come le altre. A me quando vado in campo non me ne frega niente chi ho davanti o se sono miei compagni o robe varie. Io voglio vincere come vogliono vincere tutti i miei compagni.